Il mondo che finisce Potrebbe essere che ci sia in questo spettacolo un mondo che finisce, ma quel mondo potrebbe essere racchiuso da quei due pannelli bianchi che formano un angolo, però quel mondo che finisce ne ha subito un altro dietro da aspettarlo che saprei dire sia migliore. Sì, io sono felice. Sono veramente felice. È rimasto ben poco, quindi. Non che ci fosse molto prima, ma almeno da qualcosa. Forse sì, c'è un mondo che finisce, però io in quest'anno di lavoro, man mano che noi stessi lavoravamo assieme, ecco che è apparsa una forma, no? Probabilmente questa forma si manifesta in questa anche immagine finale come di un mondo frontale, sia perché i personaggi si vedono finalmente di fronte ma anche finalmente si rivela un'immagine per quello che è, non in modo attraverso gli spalli. Ogni cosa ha il suo peso, il suo enorme e incontrante peso. Forse è anche un mondo che vorrebbe finire, ma i cui abitanti tentano disperatamente di perpetrarlo, di portarlo avanti oltre se stessi e oltre le possibilità di esistenza all'interno di questo mondo. Grazie. 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 Grazie.